Il 26 luglio torna l'appuntamento con la festa di Sant'Anna. Come sempre saremo in diretta per raccontare l'evento più importante dell'estate ischitana con la sfilata delle barche allegoriche, la simulazione dell'incendio del castello e i fuochi pirotecnici con tante interviste e tanti contenuti inediti. Ci vediamo martedì sera alle ore 21 in diretta su Teleischia, canale 81 del digitale terrestre e in streaming su tutte le nostre piattaforme social con Teleischia, la festa di Sant'Anna come non l'avete mai vista. Io ci sarò e voi?